Il gruppo Unicredit ha appena lanciato Buddy Bank, un nuovo tipo di banca che ha definito molecolare e solo per smartphone. Che cos'è esattamente una banca molecolare? Molecolare significa adattabile, quindi Buddy Bank ha l'opportunità di adattarsi ai mercati dove andrà ad atterrare con estrema agilità e leggerezza, cosa che le banche tradizionali non riescono a fare. Qual è il target di clienti a cui vi rivolgete con Buddy Bank? Quando pensiamo a Buddy Bank, a una banca digitale, spesso si pensa al target giovane. In realtà il nostro cliente perfetto è la persona che vive con la testa dentro lo smartphone, che fa operazioni con lo smartphone tutti i giorni e che usa lo smartphone per vivere, quindi per prenotare un ristorante, per fare investimenti, per guardare il mobile banking o per usare la musica o guardare un film. Quindi un cliente evoluto che vive nelle grandi città? Assolutamente, non solo quindi tutte le persone che vivono con lo smartphone in mano, ma anche le persone soprattutto che vivono nelle grandi città. Buddy sarà la prima Cosmopolitan Bank perché i servizi che offriremo saranno disponibili principalmente nei grandi centri metropolitani e nelle aree urbane. Facciamo ad esempio il trasporto, il car sharing, i ristoranti che accettano prenotazioni online o pagamenti diretti tramite applicazioni sono solitamente concentrati nelle grandi città, così come l'80% della popolazione ormai è concentrato nelle grandi città. Il nostro target di riferimento è il 2% degli utilizzatori di smartphone di alta fascia. Su quali servizi avete deciso di puntare in particolare? Buddy vuole diventare la compagna di vita dei nostri clienti, quindi andremo a offrire servizi bancari tradizionali ma molto innovativi come un conto corrente e modulare, una carta di debito e credito fornita da Mastercard, il nostro partner, e degli instant loan, quindi dei prestiti personali dedicati, preapprovati nel momento esatto in cui il cliente ne ha bisogno. E poi offriremo una serie di servizi verticali offerti da terze parti, finanziarie e non finanziarie, quindi anche di lifestyle, come dicevo prima, come prenotazione al ristorante, ordinare un mazzo di fiori, una bottiglia di vino, perché no prenotare la vacanza negli Stati Uniti e pensare solo ad andare in vacanza perché il resto ci pensa Buddy Bank. Quando aprirà Buddy Bank? Apriamo in Italia il primo gennaio 2017, l'Italia è il nostro paese, siamo affezionati a questo paese, è il paese del nostro gruppo e poi pensiamo e stiamo studiando di andare in altre geografie per completare il footprint di Unicredit. Dopo l'Italia avete già pensato ad altri paesi in cui proporre Buddy Bank? Sì, però è sotto studio di fattibilità, quindi ancora oggi non c'è nessuna decisione di espansione all'estero, ovviamente il paese che guardiamo con più interesse è il paese da dove viene l'idea di Buddy Bank che sono negli Stati Uniti d'America.